Il centro di riabilitazione Teri offre riabilitazione e fisioterapia completa di percorso in piscina calda a 34 gradi. Ti aspetta Cava dei Tirreni in via Gino Palumbo numero 19. La tassa sull'ascensore non ci sarà. Per il Consiglio di Stato però la decisione del Governo di fare dietro front sull'obbligo di messa in sicurezza degli impianti installati prima del 1999. Dischia di creare un certo allarme. Questo perché gli ascensori più vecchi, a meno che non siano stati oggetto di interventi di adeguamento, non garantiscono a chi li utilizza il massimo livello di sicurezza offerto da quelli installati in conformità alla direttiva numero 95 del 2016. I giudici amministrativi hanno acceso uno spiraglio di luce sul discusso regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico che ricepirà nel nostro ordinamento la nuova direttiva europea numero 33 del 2014 in materia di ascensori. Il regolamento era finito subito nel mirino di confedilizia. Preoccupata per le conseguenze economiche e per i controlli di sicurezza richiesti per gli impianti antecedenti al 1999, avrebbero potuto produrre sulle tasche dei proprietari. Nel recente parere del Consiglio di Stato si citano i dati forniti degli operatori del settore che evidenziano come su 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% sia ancora caratterizzato da un'adeguata precisione di arresto della cabina. In vero, circa il 35% presenta problemi di inadeguatezza dei sistemi di protezione contro urti e schiacciamento della cabina e circa il 70% sia sprovvisto di adeguati dispositivi di illuminazione, di emergenza e di richiesta di aiuto della cabina.